saipem analisi mensile maggio 2021 buongiorno benvenuti a tutti siamo sempre in italia analizziamo oggi questo titolo la cui analisi scorsa la trovate datata più o meno gennaio forse prima quindi insomma facciamo anche l'aggiornamento di questo titolo ho messo il video il grafico a tutto diciamo a tutto schermo nel senso che racchiude tutto il grafico da quando comincia a quotare forse no neanche perché poi qui c'era anche prima ecco vedete anche prima sì 2098 ma diciamo che dal 2007 diciamo per far capire quanto oggi siamo dove siamo arrivati siamo qua e bisogna capire però bene il contesto cioè da dove siamo partiti che tipo di andamento ha avuto il titolo negli ultimi anni soprattutto poi dal 2010 2011 fino ad oggi ora poi strecciamo e andiamo a vedere questa parte dal 2016 in poi ma bisogna prima di guardare questa parte con la lente di ingrandimento capire bene il contesto di questo titolo quindi questo è il risultato dopo tot di anni di contrattazioni ora andiamo ad allargare come avevamo fatto già per la scorsa analisi per cercare di capire se questo titolo può rialzare la testa o che pesci può prendere anzi noi che pesci possiamo prendere nel caso fossimo interessati a questo titolo eccolo qua quindi questo è il grafico dal 2016 ad oggi abbiamo segnato diverse aree sia di entry potenziali che di target allarghiamo ancora un po perché così vediamo meglio soprattutto la parte del 2020 abbiamo la candela di marzo che fa come dire che la fa un po da padrona anche se dopo anche se dopo pensate tutti i titoli dal 2020 ad oggi dopo la candela di marzo hanno recuperato quasi a dismisura anche in italia questo è riuscito a perdere ancora e andare a sprofondare addirittura fino a 1.35 quindi dopo marzo siamo scesi ancora abbiamo avuto un bel setup questo qui un buon hammer a ottobre abbiamo avuto il riassorbimento quindi dei minimi del mese di settembre e qua ci stava un buon entry per chi era così col pelo e insomma di coraggioso e siamo andati praticamente al rialzo fino di nuovo a toccare questo massimo toccato in precedenza quindi area 270 la cosa che è importante notare è questa prima area dei minimi venduti di luglio su giugno è stata rotta al rialzo spesso dico che le prime aree sia da una parte che dall'altro nel caso ci sia un'inversione di trend è più facile che vengano diciamo rotte magari non in prima battuta ma poi successivamente vengano rotte e così è stato per la prima area che avevamo segnato di target ma questa seconda area malgrado la reputarsi comunque ancora non proprio fortissima ad esempio come potrebbe essere questa dove ha questa area di target questo questa soglia questo livello ha visto veramente l'ingresso di tanti venditori no quindi una massa di venditori enorme che sicuramente al ritest spingerà nuovamente il titolo al ribasso ma qui avevamo avevamo avuto questi massimi venduti cioè di nuovo da qua il prezzo aveva provato a spingere e poi da qui di nuovo c'è stato un ingresso di venditori che infatti non soltanto ha venduto questi massimi ma poi ha venduto anche questi minimi portando il prezzo fino appunto come abbiamo detto a 1,30 ora sul ritest di questo livello abbiamo visto funzionare già diversi mesi questo massimo venduto perché con il mese di gennaio il prezzo viene respinto con il prezzo con il mese di febbraio il prezzo di nuovo si spinge fino a 2,69 ma chiude sotto quindi in riassorbimento di nuovo la candela di marzo di due mesi fa praticamente insignificante ok e poi di nuovo quando un massimo non riesce a essere comprato prima o poi viene venduto è quello che succede qua di nuovo con la candela di aprile il prezzo spinge di nuovo verso il basso e vende di nuovo questi massimi questi minimi scusate doveroso quindi andare a segnare quest'area anche se ripeto queste prime aree possono essere quelle più facilmente rotte ma per chi vuole andare a vedere quanto queste aree funzionino proprio per uno spunto didattico per uno spunto così di chi è appassionato di analisi grafica e gli piaccia vedere come funzionino le dinamiche del prezzo posso dire tranquillamente che al ritest quest'area potrebbe tranquillamente funzionare tra l'altro guardate maggio si è spinto praticamente quasi fino a quest'area e poi ha riassorbito quindi maggio ha aperto sui minimi si è spinto fino a quest'area e poi da quest'area sta ritracciando quindi si è spinto fino a 2,19 2,20 e poi sta ritracciando fino a 2,04 quindi non si può dire che queste aree questi livelli non funzionino ma è facile il motivo è semplicemente perché sono livelli su cui realmente è successo qualcosa o sono intervenuti i compratori, sono intervenuti i venditori, è successo qualcosa e quindi la mente umana poi viene sempre spinta a replicare quello che chiaramente ha funzionato e ad allontanarsi da quello che non ha funzionato quindi chi è long va a target, chi è flat prova lo short e di conseguenza questi livelli tornano sempre utili e sono veramente molto ben delineati come potete vedere appunto funzionano proprio quasi praticamente al tic bene, che cosa possiamo dire? la candela di maggio ha provato a testare questo livello cercando di andare a romperlo, di andare a chiudere sopra ma a tutti gli effetti al 23 del mese, 24 sta indietreggiando quello che potrebbe essere più naturale adesso è andare o a rompere questi minimi del mese precedente e poi a riassorbirli secondariamente e andare a rialzo successivamente oppure andare direttamente ormai su quest'area di supporto a 1,59 dove anche qui potremo avere sicuramente una reazione abbastanza importante un po' perché sui minimi di questo swing precedente un po' perché su un'area di massimi comprati che potrebbe tranquillamente rivedere da qua a qua questa fascia di prezzo l'ingresso di compratori in un modo o nell'altro di chi vuole speculare o di chi magari crede che possa iniziare un nuovo trend e non vuole perdersi l'occasione di posizionarsi su questi livelli quindi sicuramente qua potremo trovare di nuovo delle aperture di posizioni long vediamo che cosa succede perché non è detto che ci si possa tornare anche se la probabilità è alta a guardare il grafico qua siamo scesi, siamo saliti, non siamo riusciti neanche ad arrivare a questo target malgrado il prezzo, tutti i mercati abbiano quotato così sempre a rialzo in quest'anno quindi questo è un titolo destinato evidentemente a tornare su questi livelli se non addirittura a romperli quindi attenzione poi invece se da qui iniziasse un trend nuovo perché l'azienda ha avuto un risveglio sotto tutti i punti di vista a livello di, chissà, ha sistemato cose che non andavano ha inventato nuove cose, ha nuove collaborazioni allora potrebbe da qui partire un nuovo trend massimo minimo, massimo minimo e dovremmo intanto vederla però diciamo abbastanza velocemente arrivare su questo target niente, basta, aspettiamo di vedere come chiude la candela di maggio se riuscirà a non vendere questi minimi quindi a quotare nel range della candela di aprile quindi fondamentalmente sarebbe un nulla di fatto o se invece già a maggio, in quest'ultima settimana andrà più violentemente a spingere al ribasso rompendo questi minimi e chiudendo sotto a quel punto sarebbe praticamente scontato un arrivo diretto con giugno su questi livelli vediamo, io prima di chiudere rinnovo l'appuntamento tutti i giorni alle 14 per l'azionario mondiale lunedì sera materie prime, venerdì sera ETF mi raccomando se vi è piaciuto il video lasciate un bel mi piace ciao